Sì, sono caduti! 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 Sì! 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 Sì, sono caduti! Sì! 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 Il parco chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara ma prima di collegarci vediamo in grafica i risultati ufficiali della gara moto 2 appena conclusa. Anche se non è riuscito a raggiungere il podio il suo piazzamento dimostra che moto e pilota sono competitivi. Continuando di questo passo la squadra potrà arrivare a lottare per le posizioni che contano.